PD e Movimento 5 Stelle a Ragusa sempre più coesi come di riflesso con quanto accade al governo del paese. Collaborazione tra le due maggiori forze d'opposizione già nell'aria da qualche settimana ma che adesso si manifesta palesemente con il primo comunicato stampa congiunto e indirizzato direttamente al sindaco Peppe Cassì alla luce di quanto fatto in questi due anni di amministrazione a Palazzo dell'Aquila. PD e 5 Stelle tirano quindi le somme avanzando una bozza di bilancio e parlando di una situazione di stallo preoccupante. Fra pochi giorni affermano i consiglieri comunali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle il secondo compleanno della Giunta Cassì, un periodo ormai abbastanza lungo per poter tracciare un bilancio dell'attività che purtroppo risulta estremamente negativo. L'azione della Giunta Cassì sul fronte politico e su quello amministrativo affermano i gruppi d'opposizione, si è rivelata inconsistente, i pochi progetti annunciati sono fermi o vanno a passo di lumaca, il programma elettorale è stato dimenticato. Ci sono settori dell'amministrazione che non producono, ci sono uffici apparentemente pieni di lavoratori ma non si intravedono risultati, non ci sono iniziative autonome, si resta in attesa di misure e provvedimenti superiori. L'accusa di attendismo che qualcuno muove all'indirizzo dei componenti di Giunta è solo una certezza di fronte alla realtà di un immobilismo che fa paura, non c'è un settore che mostri vitalità propria. La questione di scarica sembra insormontabile, siamo succubi delle decisioni palermitane. Il settore dell'urbanistica e dei lavori pubblici è nel pallone, piano regolatore e piano particolareggiato sono al palo, il progetto culturale si muove come un pachiderma. L'ultimo, dedicato ai locali dell'ex operapia, era un progetto già delineato che doveva essere dedicato all'edificio scolastico del Carmine. Non si può affidare un immobile di pregio in pieno centro per soddisfare le passioni e gli hobby di pochi giovani. Si vanta la centralità dell'immobile rispetto al cinema marino, all'ex biblioteca, alla parte finale di Via Roma, tutti i progetti previsti nel programma elettorale, ma dei quali non si sa nulla. Stessa sorte per l'ospedale civile, la chiesa e il convento di Gesù, del museo archeologico, il cinema all'Alicate 2000, Palazzo Tumino, l'ex hotel San Giovanni. Il centro storico è abbandonato, preda di spacciatori. Non c'è programmazione per il turismo, per lo sviluppo economico, per lo sport. Si ignorano la scuola dello sport e la residenza per gli anziani di Via Bellinguer. Non c'è uno straccio di viabilità per incompiute e immobili abbandonati. Insomma, fuoco congiunto, con critiche ben mirate che sembrano non lasciare altra possibilità al primo cittadino, se non quella di replicare immediatamente. Replica avvenuta solamente qualche ora dopo, tramite comunicato stampa, dove Cassì rispedisce la maggior parte delle critiche al mittente. Una lista, ha affermato il primo cittadino, riciclata da quelle che già anni fa si leggevano sui giornali e che ora il PD e i 5 Stelle, finalmente alleati palesi in città, vorrebbero azzerata in due anni. Con questo comunicato, infatti, continua Cassì. Insieme attribuiscono a questa amministrazione le stesse carenze che non molto tempo fa il PD attribuiva ai 5 Stelle e che a loro volta i 5 Stelle rimprovenavano a chi li aveva preceduti. Per ciò che ci riguarda, continua il sindaco, abbiamo scelto la via delle soluzioni strutturali e non delle pezze. Un lavoro più lento e silenzioso, ma necessario. Un solo esempio, attualissimo. Ragusa non aveva luoghi della cultura. Non aveva cioè presentato la domanda per registrare i propri importanti monumenti in quell'elenco ministeriale che permette l'accesso ai finanziamenti fondamentali. Nei prossimi giorni, conclude il primo cittadino, in coincidenza con la ricorrenza dei due anni di mandato, parlerò di questo e di tanto altro, di ciò che abbiamo fatto, di ciò che stiamo facendo. Lo farò direttamente con i cittadini, senza filtri, spiegando, informando e ascoltando. Con l'elenco dei no, non si è mai andati da nessuna parte. Grazie a tutti.